Ciao a tutti amici del canale, bentornati a questo nuovo video. Sono qui oggi per portarvi un video in collaborazione con Giulia e questo è il suo canale, ve lo lascio giù anche in descrizione, il link e anche il video che abbiamo fatto in collaborazione. E abbiamo deciso di portarvi un video delle nostre cadute. Partendo dal presupposto che io vado a cavallo da circa dieci anni, sono caduta un'infinità di volte e di moltissime volte non ho i video, soprattutto di quando ero piccola. Quindi ho pensato di raccontarvi alcuni video, ce li ho, farvi vedere solamente da quando ho preso biondo, quindi con biondo, con mendi e con domino. Perché di quando ero piccola sono caduta così tante volte che non me le ricordo neanche tutte. Quindi da piccola sono caduta tante 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 volte, ma tante, molte, tante. Prima bestia che è stata di mio possesso è stato biondo. È stato il mio primo pony che ho avuto in mezza fide, l'ho avuto in prima liceo e l'ho voluto molto bene, anche se è stato un pony che mi ha dato pochissime soddisfazioni. Cioè io poi mi sono affezionata e tutto, però soddisfazioni non ci sono state praticamente e cadevo spesso perché lui faceva lo stupido e sì, un'esperienza fantastica. Quindi da biondo che io abbia ora in mente sono caduta mi sembra tre volte. Allora la prima è stata probabilmente una delle mie peggiori cadute, che è stato in casa, era inverno, praticamente c'era tipo un largo, io non sembrava che lo saltasse, alla fine l'ho saltato e tipo io sono volata per terra sul sedere e mi sono fatta molto male, sono andata anche all'ospedale un paio di giorni dopo perché non mi passava il male. La seconda caduta che mi viene in mente con biondo è stata in gara, fuori, nostra prima gara fuori, è stata San Valentino del lontano 2016, abbiamo fatto l'80 e non trovo più il video, però vi racconto, era a buscate e praticamente i primi due salti erano una linea attaccata alle tribune, no? Parto, stavo gallopando troppo piano e mi scarta l'uno, torno con un po' più di galloppo, faccio l'uno, arrivo, scarta il due e io cado. E mi ricordo che mi ero fatta male solo al mento perché tipo lui mi aveva tirato un calcio sul mento e io avevo male al mento, nient'altro. Fantastica caduta. Altra caduta e ultima che mi ricordo con biondo è stata, era una tappa poni mi ricordo a maggio, ed era i tre ali il campo piccolo. Letteralmente abbiamo fatto la 70 e erano 8 salti tipo. Dopo il settimo lui decide, dato che era andato tutto abbastanza bene, decide che non mi voleva più e ha tirato la sdroppata della sua vita e per nulla è volata. Via. Di questa fantastica caduta io ho il video. Sì, qua uno. Ok, già falso, fantastico, ottimo. Trotto, galloppo, fantastico, che brava. Poi andiamo avanti. Qui c'è il 2 azzurrino, ok. Madonna no, oh è caduto il fiocco. Non mi piegavo, oddio non mi piegavo. Fantastico. Ok, anche il 3 è fatto. Qui abbiamo il 4, fantastico. Anche qua mi piegavo, nice. 5, pure un po' attenzione, nice. Poi qua c'è tutta la curva, sulla diagonale c'è il 6 e poi in spezzata girando a sinistra c'è il 7. Questo me lo ricordo perché dopo il 7 sono morta. Nice. Qui c'è il 6 e qua verso sinistra, ecco questo è il 7. Fantastico, grazie biondo. Avete visto quanto è stato carino? Ve lo faccio rivedere. Grazie biondo. Grazie. Poi Mandy, Mandy pony fantastica come ormai tutti avrete capito, sono caduta una volta e montavamo dentro e era un largo grossino e non ci siamo capite bene su un momento in cui bisognava staccare, alla fine non ha staccato e io sono volata. Però niente, non mi ero fatta neanche tanto male, ero risalita, tremavo, tremavo e l'ho risaltato e sono ancora viva, fantastico. E adesso arriviamo alle fatidiche cadute con Domino. Allora, con Domino sono caduta che mi ricordo 5, forse di più, però ho rimosso quindi 5. La prima è stata, prima del nostro secondo concorso, letteralmente forse il giorno prima, due giorni prima. Lolli mi fa, ma ti ha mai scartato Domino? E io faccio, no, non mi ha mai scartato e non si è mai fermato. Letteralmente il secondo dopo vado a saltare e scarta, e per nilla vola. Quindi io non parlerò mai più dicendo che non ha mai scartato. Quindi sì, sono volata ma non mi ero fatta tanto, sono risalita, niente di speciale. E il giorno dopo, o comunque in weekend, in gara, 90, perfetto, un ettero, strafelici, perciò più felice della terra, 100, faccio i primi tre salti e cado perché scarta al 4. Questo video non ve lo faccio vedere, però vi lascio nella i, che non so dov'è uno di qua o di qua, vi lascio nella i il video delle mie peggiori gare con Domino, ed è quella del 26 di marzo a Gorla, nella 100. Quindi andatevi a vedere quel video perché, sì, fantastico. La terza caduta da Domino è stata a Manerbio il 29 aprile, con il giorno prima del mio compleanno, e anche questa caduta la potete trovare nel video che vi ho messo nella i, e che vi lascio giù anche in descrizione, così prima finito questo video poi ve lo andate a vedere. E lì era la 100, ho fatto l'1 e al 2 l'ha scartato. E sono volata, come una pera, no, lì veramente come una pera perché, sì, nice. Quarta caduta con Domino è stata a Cazzelbarco, che è il nostro campo all'aperto, ed è stata prima del concorso del 23 di luglio, quindi prima della mia prima 10. Very nice. E in realtà di questa caduta non ho il video, però ho il video di dopo, cioè ho rifatto la linda spezzata in cui sono caduta. Praticamente erano 5 tempi, un po' lunghi. La prima volta ne ho messi, io volevo staccare i 5, lui ha detto, sei pazza, 5 tempi, mettiamone un altro che è un po' più alto. Io ho detto, forse hai ragione, nel frattempo sono volata per terra, ho tirato giù tutto l'ostacolo. Ci ha messo 10 minuti la mia povera istruttrice a ritirare su tutto e poi ho il video, adesso ve lo faccio vedere mentre lo rifaccio. Quindi questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi si sente la mia istruttrice che dice, sì, va bene lo stesso, anche così. Perché quando sono scesa dal primo ho avanzato, però poi lui è sempre, Domino è sempre meglio rimettere un tempo, quindi l'ho vista che era ancora alla stessa distanza, ho detto, aspetta un attimo, mettiamo un tempino in più che va sempre bene. Quinta caduta con Domino, che mi ricordo questa, e ho il video, e questa è del, prima del concorso del 2021-20 ottobre, che era prima della mia prima 15. Cioè è proprio fantastico, e ve lo faccio vedere. Ecco la precessuna, ho sbattuto la testa in un modo troppo forte, qui volo, e poi qua sono rimasta attaccata, vi giuro, a me sembrava di essere rimasta su due ore, anche di lato, poi Domino si ferma e io, pum, fantastico, fantastico. Che esperienza magnifica cadere. E quindi niente, io spero che questo per la racconta vi sia piaciuto, io mi sono divertita un sacco a raccontarvi, a mostrarvi le mie peripezie, e niente, ricordatevi di andare a seguire Giulia sul suo canale, ve lo lascio qua in descrizione ovunque. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, e lasciatemi scritto nei commentini quante volte siete caduti, e se vi siete mai rotti qualcosa, perché sono molto curiosa. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!